Ecco, sta a parte già trotti, e le montiamo su, chi c'è sta qui? Va bene, bravi ragazzi. Aspetta a te perché le volevo fare. A me, a noi, a me, a RSU, ecco, si arriva a morire di Emilio. Noi, non c'è basta sta qui da fuori, quindi dobbiamo stare sopra. Vi invito, adesso andiamo su, noi gli chiediamo, non sentiamo il detto, che venga pure il sindaco, perché dobbiamo parlarci, chiede di fargli le domande e averci delle risposte. Quindi, la cosa che vi chiedo, fammelo parlare, perché se non fammo parlare, fammo parlare, sentiamo le risposte, noi diciamo quello che gli andiamo chiede al nome di tutti i lavoratori. Intanto, aspetta, arriva Emilio, poi andiamo su, stanno a parte già qui davanti, che per perciò ci siamo messi a dovere, il casino è stato bloccato. Ciao. Ho cominciato la consigliere.